buongiorno dalla campagna cerco cerco di uscire dalle sabbie mobili e inizio il video se qualcuno mi da una mano non ci esco no come vedi ha fatto un pochino di acqua e questo è il risultato proprio ieri nelle mie storie di instagram dicevo stava piovendo a dirotto e dicevo che i campi fuori erano già allagati mentre in serra si stava bene ecco qualcuno forse me l'ha mandata e ti faccio vedere che anche qui si è allagato tutto perché perché allora innanzitutto questa è un'ondata particolare così tanta acqua tutta insieme non la fa quasi mai prima cosa seconda cosa come vedi i fossi di scolo sono completamente allagati sono belli pieni quindi il livello dell'acqua è bello alto essendo il livello dell'acqua alto anche in serra se non piove dall'alto viene da sotto io come vedi cerco di tenere la fossa più pulita possibile ogni anno prima delle forti piogge la tengo pulita e quindi cerco di limitare un pochino i danni però sono quattro giorni che ora una sfera di sole sta avvenendo ma sono quattro giorni che piove ininterrottamente è proprio una fatta veramente tanta tutta insieme anche i campi qui davanti sono allagati ora ti faccio vedere questa qui è una serra aperta il telo sopra non c'è ti faccio vedere le condizioni di acqua qui acqua da sopra e acqua anche da sotto mentre qui il telo sopra c'è e come ti ho fatto vedere prima c'è parecchia acqua che viene da sotto allora questa qui è la coltivazione delle carote memore dell'anno scorso che anche l'anno scorso fece un'acquata straordinaria proprio in questo punto qui che è la sera più a confine con i fossi ho cercato di raccogliere le carote prima che facessero queste prima che facesse questa forte acquata un po' ci sono riuscita e un po' in questi giorni mi devo sbrigare altrimenti le carote le rischiano di marcire ecco questa qui è una cosa molto importante per chi fa il contadino chi ha l'orto ricordarsi bene di cosa è successo l'anno prima magari di alcuni disagi ad esempio come questo e di andare anche durante la programmazione come ti ho fatto vedere in un video che ho fatto ti lascio il link in descrizione valla a vedere per la programmazione dell'orto bisogna valutare anche questo magari un terreno è troppo basso quindi dobbiamo dedicarlo a determinate colture oppure sbrigarci per tempo a toglierle prima che arrivino magari delle acquate o altre condizioni meteo ora andiamo a vedere le altre coltivazioni come stanno per fortuna allora questo qui è un terreno un pochino basso però per fortuna non tutte le coltivazioni hanno subito dei danni di allagamento ora si va a vedere questa qui è la prima mandata di carote me la sono praticamente quasi scampata e quindi mi è andata bene qua la seconda mandata di carote ho già fatto un giretto prima qui invece sono abbastanza salve non si va giù la terra non è mezza non c'è della melma quindi qui salva qui per fortuna ho già raccoltato tutti gli spinaci anche qui in memore dell'anno scorso e poi sapendo benissimo che gli spinaci più acqua prendono e più ingialliscono mi sono sbrigata a toglierli e anche qui è entrata l'acqua sempre da sotto ora lì non ci vado perché non voglio dire andare giù qui le piccole barbe rosse anche qui per fortuna sono salve non contentissima qui ci sono la qui c'è la prima mandata di barbe rosse e qui non ce ne sono rimaste tante però come vedi ci cammino benissimo quindi anche qui fatto salve le cipolle che sono ghiotte d'acqua anche se avessero subito dei danni anzi loro sono insomma ne hanno proprio bisogno e io risparmio di acqua ora si va a vedere se se si sfonda non si sfonda qua c'è la bietolina e la bietola a costa bianca anche queste salve anche i cavoli di qua mi sembrano belli asciutti già a vedere da sotto vai salvi ora qui ci stiamo piano piano avvicinando alle fosse che qui perfetto qui l'acqua aspetta che mi viene via il piede te stai lì a guardare ok qui l'acqua un po entrata come visto dalle fossi sempre dal sotto comunque non mi preoccupo per i carciopi perché almeno quelli che sono sotto serra l'acqua piano piano andrà via e loro riuscivano a crescere tranquillamente ecco qui l'acqua qui non ci vado l'acqua si vede bene che è entrata molto fino a questo punto qui sono abbastanza mi posso ritene abbastanza fortunata ora rimette un altro giornetto di pioggia ma ho la fortuna diciamo di coltivare sulla sabbia quindi appena le fosse si asciugano un pochino qui l'acqua va subito giù però stavolta era fatta veramente tanta e per fortuna dai mi ritengo fortunata non ho avuto grossissimi danni ho saputo un po diciamo prevenire come ti ho detto prima fammi sapere te so che più o meno in tutt'italia ci sono stati dei danni dove nevica ha dirotto freddissimo a tutte le parti anche qui in questi giorni era molto freddo dove piove insomma fammi sapere come stanno come sta il tuo orto allora l'ultimo video che ho fatto è come progettare l'orto in cinque mosse e da lì è partita una sfida che spero di riuscire a portare a termine commentate da quel video in poi fino a natale commentate perché io voglio riuscire a salutare tutti quelli che mi commentano così da sentire più la vicinanza l'uno all'altro quindi iscriviti al canale accendi la campanella le notifiche per non perderti nessuno video è alla prossima